il braccino è quella sensazione di essere duri e rigidi che spesso si ha quando giochi la seconda palla di servizio e non vuoi sbagliare quindi fai un movimento molto corto bloccato e magari la tiri veramente a rete oppure la tiri talmente comoda e lenta l'avversario che lui entra giocando una risposta vincente la seconda palla giocala con un po di rotazione magari in kick facendo passare la palla alta sopra la rete accelera il movimento verso l'alto non la schiacciata verso il basso se no ti andrà a rete se poi vuoi dei consigli personalizzati per migliorare il tuo servizio posso aiutarti con la video analisi a distanza trovi tutte le informazioni sulla scheda qui in alto a destra